Io a scavuccio Vabbè, in quel momento Cosa mostra? La morte Qualsiasi cosa per appagare Bene, ma non stavo forno bene Comincio a scrivere Perché mi sembrava una cosa enorme Anzi, con più che sembrava E' una cosa enorme Viene Anzi, con più che sembrava Soli Anzi Con più che sembrava E' un'altra cosa Diore Quattro Grazie a tutti. Grazie a tutti.